Ciao a tutti, benvenuti al secondo video sul Tamagotchi Connection V4 con sfondo felino. Allora, come potete vedere il mio personaggio Dalia è diventata una bambina e in questa fase è possibile mandarla a scuola, alla scuola materna scusate, o all'asilo. Infatti ha appena ricevuto quella che credo sia la lettera di ammissione alla scuola materna. E infatti arriva la maestra che la invita alla scuola materna. E quindi potete vedere che è arrivata alla scuola materna dove riceve lo zainetto per andare a scuola. E Dalia ne è felice. Quindi a questo punto, quando voglio mandarla a scuola, vado sull'icona della connessione, seleziono Work, che sarebbe lavoro, e quando c'è scritto Away premo il tasto B. In questo modo va a scuola. E quando a scuola non devo fare niente, devo solo guardare l'animazione. La maestra canta, Dalia balla. E può cadere, oppure riuscirà a ballare. Oh, brava Dalia. Andare alla scuola materna aumenta i punti di abilità. Nella fattispecie io ho notato che aumenta l'abilità artistica. Infatti Dalia adesso ha un punto di abilità artistica, mentre fino ad ora non ne aveva nessuno. In questa fase di età può anche giocare al secondo gioco, che è stato sbloccato, che è il gioco Mimic. E come il Jumping Rope, cioè il salto della corda, aumenta a caso una delle tre abilità. Però ho notato che questi due giochi è molto più probabile che aumentino... Sì, Dalia, non volevo che tu ballassi. Che aumentino le abilità intellettuale, scusate, e sociale. Mentre andare all'asilo aumenta l'abilità artistica. Io almeno ho notato questa cosa. Per cui vi faccio vedere il gioco Mimic, che è lo stesso gioco che c'è anche nel Tamagotchi Friends versione europea. Se non l'avete guardato vi consiglio di guardare i video dedicati al Tamagotchi Friends. Questo personaggio gira e si ferma in una posizione, e adesso anche Dalia gira, io devo fermarla nella stessa posizione. E ho già fallito. Ogni round ha tre prove e devo farne giuste almeno due. Però farlo attraverso la camera, attraverso lo schermo del cellulare, non è facile. Perché bisogna essere molto veloci. E chiaramente non è contenta. Riproviamo una seconda volta, dai. Personaggio gira. Non è molto facile come gioco, però è più facile qua che nel Tamagotchi Friends. No. Io lo vedo un attimino in ritardo rispetto alla realtà, per cui... Non riuscirò mai a farlo. No, questa ce l'ho fatta. Bene. Il pallino vuol dire che è giusto, la crocetta vuol dire che è sbagliato. Comunque ci sono sei round in totale, sempre più veloci. E vincere il gioco vi porta a guadagnare 400 gocci points. Poverina. E dubito che abbia guadagnato un punto di abilità. No, infatti è rimasto tutto come prima. In questa fase, Dalia può anche connettersi a un altro Tamagotchi Connection. Per cui seleziono Others, in questo caso, G in 6 per un altro V4. Anche qua vado sull'icona della connessione. E premo il tasto B. E poi li metto faccia a faccia, diciamo. In questo caso, Adone è andato a trovare Dalia e le porta a un regalo. Vediamo cosa ci ha regalato. Un gelato, grazie. E in questo modo aumenta il livello di amicizia con un altro personaggio. Aumentando il livello di amicizia, credo che lo si possa far sposare con un altro personaggio. Con l'altro personaggio con cui ha l'amicizia, scusate. Ho attivato l'orologio. Comunque non avendo un altro V4, non posso fare né il gioco per il V4, né dargli un regalo, né... Vabbè, sì, la visita sì, posso visitare gli altri. Però se avessi un altro V4 avrei più possibilità di connessione. Magari un giorno capiterà. Poi vi spiego i tre pulsanti. Se non avete selezionato nulla, premendo A e B, si mette in pausa. E di nuovo A e B per giocare. Premendo A e C, contemporaneamente, potete accendere o spegnere i suoni. In questo caso spengo. Premendo il tasto B solamente vedete l'ora. E quando siete sull'orologio, tenendo premuti il tasto A e C, contemporaneamente, potete cambiare l'ora e la data. Però in questo caso non lo faccio perché non mi serve. E poi, in ultimo, premendo il tasto C, il personaggio fa un'animazione. Quando è adulto, si avvicina allo schermo e vi fa uno zoom del suo aspetto. Ok, credo che non ci sia altro se non il fatto che... Ah sì, un'altra cosa c'è. Adesso il personaggio può utilizzare alcuni degli oggetti. Per cui tipo la palla da calcio e altri. Alcuni possono usarli solo gli adulti. La adoro. Bene. Ok. Adesso posso veramente dire che per oggi è tutto. Ci vediamo quando Dalia sarà cresciuta, sarà diventata adolescente. Perché lì avremo nuove opzioni disponibili. Intanto vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate commenti, fate domande se ne avete. Ciao e alla prossima. Ciao e alla prossima.